ciao ragazzi benvenuti ancora in un nuovissimo video di brazzo crew e questa volta dopo una lunga assenza che non postavo glitch vi farò vedere come duplicare e vendere le nostre auto di lusso come prima cosa dobbiamo avere il garage pieno una karen rebel e un'auto di lusso comprata in questa dlc 1.14 o massimo quella precedente ma non deve essere stata già duplicata con altri glitch io utilizzerò la zentorno perché tutte le altre sono strausate la macchina che vogliamo duplicare si deve trovare in questa postazione del garage per eseguire meglio il glitch prima di prendere il cellulare per simulare un acquisto vi consiglio di mettervi in modalità furtiva premendo l3 prendete il cellulare e comprate una qualsiasi auto quando vi apparirà la lista del garage andate verso la cassetta delle attrezzi e spingetelo come faccio io adesso accederò un po altrimenti diventa troppo lungo il video e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo inversione e rientriamo. Andiamo a prendere l'auto clonata che sta al posto della Rebel e andiamo allo Santos Custom. Una volta qui basta venderla. Come vedete mi ha dato il prezzo pieno perché è la prima volta che la duplico. Potete rifarlo quante volte volete con questa macchina ma le volte successive il suo prezzo diminuirà. Chiamate pure il meccanico se volete rifare ancora il glitch e comprate subito una Karin Rebel. Adesso vi farò rivedere di nuovo tutto velocemente. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vi siete persi il video precedente andatelo a vedere che è molto carino. Questo è tutto. Un grande abbraccio e al prossimo video. Ciao.